Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di All Around the World Oggi sciopperemo 7,99€ Andiamo? 3, 2, 1 Ah ragazzi, secondo me oggi potrò, se faccio un spin piccolino potrebbe uscirmi qualcosa di raro Perché è uscita una carta rara oggi, Pokémon Ok, rega, abbiamo 100, ma perché sto ancora scioppando? Scusate ma questo non lo scioppo E basta però, no non voglio scioppare scusate, no, non lo scioppo Cioè non posso, vabbè ragazzi Ehm ragazzi, capiamo, non so perché ho del getto di Istanbul Boh, io non lo so, skin epica figurati, figuratevi, si è riuscita una skin epica Vabbè ragazzi, la prossima, la prossima cosa mi faccio, vabbè, per forza skin epica mi devo Vabbè, vabbè, vai facciamo qui, due spin epica Perché mi sto a fare 3, 2, 2 Poi, basta, e iniziamo a giocare dopo L'oppione, figurati E ora Tanto Che fa? Oh mio dio Una skin che non avevo Oh mio dio Porca miseria Ragazzi, lo sapevo che oggi avevo su spina Ma perché sono tornato a gioco? Vabbè, iniziamo a giocare Speriamo di vincere al primo colpo, ma credo che sia abbastanza impossibile 12 lettere Ah ragazzi, oggi sono pixelato perché è più divertente Iniziamo il video Allora, la prossima partita la farò con Dusk Dragon Qualcato che non è uscito un disegno brutto Beh Sto lagando Vabbè, allora oggi non saremo un po' fortunati Niente Non inizio Ciao Errore Ok Non siamo fortunati Scusate Bisogni durante il gameplay Five minutes later Ragazzi Ora riproveremo a fare una partita Perché Come vedete Laga troppo Sono nel bersaglio 5 cellulare nella Snowball E vi erano al piano Ballavamo a suona l'ora Pandoni da me fra Con i fiori fiorini nella sua volta Come fumo della metà L'abbiamo iniziato bene Sanno tutti che questo è sempre quello di Faccio una figuraccia che manco Manco Tom Cruise riusciva a farla Niente Oh niente Non ce la faccio Niente Non ce la si fa Bam 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 Vabbè Scherzi con il shampoo Giga Io vorrei avere anche quello di fuoco Così faccio la collezione di schede Ho quello di Dossa Ho sbloccato questo in questo video Mi manca solo quello di fuoco Credo che questo drago sia Il drago delle tenebre Non so Non sono un professionista Quindi non ho parlato di Che non sono un professionista In inglese Ma in questo videogioco Suu Niente Laser Dash Io sono Una schiappa Dico voglio fare un trick Che sto cercando da fare da video Niente Non me lo fanno fare Aiuto Non è di attraversare Aspetta Voi un attimo Provare ad attraversare il muro Non ce l'ho fatta Diciamo schiatto No niente Io sono immortale Ok sono mortale Come faccio la fine E' sempre Già Già undici schiottati E' lì che stanno a posto Sono contro dei nabbi A parte A parte quelli che hanno le modi Quelli sono dei pro Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Io faccio la scivolata E l'ho distrutta No 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 Riga sta laggando Ma dai che pizza però Ma che lagga Ragazzi ci riproviamo a giocare Partita Ok Ragazzi se mi dite Che sono un nabbo Mi uccido Mi disiscri Non sono Non sono caduto da solo Un tizio mi ha dato un pugno Riga M Nella mappa che sta ratta Di uscire Io sono Pro Su No L'avevo previsto Che usciva questa Vabbè Era l'unica Che non Era mai uscita Riga lagga Guardate lagga troppo Tanto io sono già schiattato Da cinque volte L'avevo detto Che ero già schiattato Niente Niente Non posso camminare Niente Non posso fare infaccio Non mi salta Niente Non posso giocare Raga Sono schiattato Uccidetemi Perché non uccidono Oggi faremo Un video con un mio amico Ora gli chiedo L'amicizia Se ci riesco Ovviamente Problema Allora Amici Non riesco a fare un cavolo Come cavolo si fa? Riga Io non ci Edo non ti riesco ad invitare A me Un mio amico Ha 268 Coloni Edo Un Un mio amico Non ha 1453 Ma come cavolo faccio? Edo Va bene se Va bene se me la chiedi tu L'amicizia Perché? Perché? Unici Ma tu se l'hai scritto Unici a un gruppo Eh sì Io non posso In che senso Unici al gruppo Unici a un gruppo Unici Edo Non ho spesso Edo Va bene se ti dico Il codice stanza Per entrare Allora Vai su gruppo Che ti dico Il codice Edo Vai sul gruppo Che ti dico Il codice Vai sul gruppo Il tasto gruppo Ti dico Il codice stanza Con il campo Edo vieni Edo ti invito Nel mio Torneo Aspetta Vieni Edo ti invito Vieni Premi Accetta Giochiamo? Sì Sei pronto? Edo Guardate Schiatti Io non posso Farmi uccidere Ragazzi Siamo entrati Se io riesco Ad entrare Possiamo fare la partita Io ed Edoardo Allora Iniziamo Mi è gustata La guajana Mi è gustata Su Vediamo Anche a me Credo Sì anche a me Un po' A me tanto A me un po' Edo iniziata La partita Io non posso giocare Ok Iniziata Edo io sono dentro Edo io sto andando Verso l'infinito E oltre No 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 Ma dai Ma va a velocità della luce Ma che cacchio Edo ma sto Ma sto Ma la mia schiena È più pesante Di un ciasso Vabbè riproviamo A fare una partita Gioca con amici Ti invito Vieni Forza Edo Ti invita Ma che pizze Edo ti invito Gioca Vediamo se mi esce Una mappa Che mi piace Tipo Lo shower Eccetera Mi perché Edo Ha visto che stavo cadendo Alla velocità Della luce Invece che al rallentatore Ma che stai dicendo Edo Me le Edo guarda che Mi hai preso per uno sceme Edo qua sono un pro Te hotter side Sono un pro Edo sono un pro Edo non devi farti prendere dalle macchine Certo non posso giocare Ma sta allargando troppo Fratello Aiuto 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 A me sta allargando Fratello Io sto allargando Non posso giocare Cioè A me A me Mi hanno investito E sto già schiattato Da cinque ore Basta Edo io Ho perso Non Non posso giocare Non posso Cioè Edo io Due vite Ho Praticamente perso Edo io Sto andando A rallentatore Basta Ma che pizze Non ci Edo Sei l'unico Che è riuscito A sopravvivere Io sono schiattato Vabbè Esci Non c'è internet Sto cacchio Vabbè Riproviamo Non 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 su quella mappa Block dash infinito Edo ti invito Va Ti invito No Partita normale Ok gioca Sperando Che mi faccia entrare Edo a dire il vero Non c'è solo block dash infinito C'è block dash normale Block Laser dash Block dash infinito E block dash Endless Block dash infinito Edo a te c'è scritto caricamento Sì A me Sta laggando troppo Edo no Io devo premerà nulla Scusa Credo A me Sta laggando troppo Però Per fortuna Questo server Questo server Europeo Se era cinese Avevamo già fatto Brutta fine Ci avevamo già Bannati da vent'anni Edo Forza Io ti invito Edo ti ho invitato Mi sto invitando Eh sì Ora speriamo Di non fare Brutta fine Se no facciamo Una figuraccia Come dei polli Ok Io sono dentro Non è iniziata La partita Ma sto cercando Le mappe Laser dash Io lo odio Eh sì Edo sei dentro Edo Edo ha iniziato Edo Per poco Non sottavo Una tizia Per poco Io non sottavo Una tizia Io faccio Fuori tutti Fra No Edo Io sono Eh Anzi io Edo Io ho fatto il buco Per passare Avevo le mod Oh mio dio Oh mio dio Ed ho fatto un trick Che uno è schiattato Volendo Volendo copiarmi Sì Edo ti vedo Hai la scritta in verde Bro 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 Edo O esce Bloc dash Infinito Ho Bloc dash leggendario Non puoi Non può uscire Bloc dash o laser dash no no io stavo per schiattare stavo per schiattare però mi so salvato il prosciutto con il prosciutto cosso ragazzi non arrabbiatevi perchè usiamo sto linguaggio strano edo io mi sto per qualificare in finale edo mi sono qualificato in finale edo mi sono qualificato in finale stiamo zitti che forse vinco edo vabbè lasciamo stare edo stai nella mia visuale almeno ok edo stiamo su leggendari su block dash leggendari edo guarda ho il drago viola sei da me devo cambiare devo trovare edo guarda quante mod ho una scivolata sto per andare nel laser e poi posso anche usare la spada se ne va se ne gusta edo sono in finale se vinco sono un pro su edo se io vinco sono un pro ragazzi se io vinco faccio la leggenda oh riga stavo per schiattare no 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 questo per poco non mi faceva schiattare ho la scivolata edo no 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 oh ma quello mi doveva per forza sputare ma che schifo Ma è un rompiscatole Quel ticcio mi ha salvato Quel ticcio che mi ha spinto Che mi ha dato un giro No riga No 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 Io in questo muro sono un nabbo Dai fammi passare No 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 che pizza Vabbè facciamo un'altra partita Non importa quel che è successo Anche se è un Quel che è successo Ti invito Ok gioca Peccato che non ci sono i rango Come su Brawl Stars Se no ero rango leggenda Tipo Tra tipo due minuti Andiamo Tu Tu Roblox Edo Questo video Lo facciamo senza cambiare gioco Mi va di Non cambiare gioco Vabbè stiamo sulla Snelldash Natasha Ma io voglio stare con te Tu che gioco vai Edo? Edo Ho fatto schiattare un tizio Vabbè Allora dopo vado anch'io su Roblox Edo No per poco non ti Per poco non ti facevo schiattare io Scusami Eh ti ho visto Ti ho visto che sei schiattato Edo mi sono qualificato io No ma che pizza Ok mi sono qualificato Ragazzi mi sono qualificato in semifinale E fra poco vinco Edo ma stai nella mia visuale Sì Però non ti ho trovato Ti devo più trovare Allora Mi devi ritrovare Ok ora esce Per forza Block Dash Leggendario In finale No Però in finale Esce Esce Block Dash Leggendario Non chiedetemi Perché vado a sbattere Contro i muri Perché voglio attraversare i muri Ehm vabbè Prova a Prova a Cercarmi No Anch'io va Edo Sono saltato sopra La testa di un titio Non parliamone Edo Sono in finale Se vinco Sono un Edo Se vinco Sono un pro Niente da dire Niente da dire Niente da fare Ragazzi Fra poco vinco E infatti E' uscito Block Dash Leggendario L'avevo detto Edo Sei nella mia visuale A me è iniziata Stanno a schiattare Per dirà d'occhio Questi Su tutto Giochi Cioè Secondo me Sto giocando Contro dei navvi Che l'unico pro Sono io Edo Credo che l'unico pro Sono io Wow Da quanto tempo E che non giocavano A minecraft Cosa Vabbè a dire vero Non è niente in confronto A tre anni Edo Tre mesi Non è niente in confronto Quanti mesi Sei mesi Non è niente in confronto A tre anni No tipo Ti ricordi Il video In cui Giocavano Rigiocavano A Brawl Stars Dopo tre anni No 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 Tra poco schiat Ma vaffan Bagno Sei sempre per quinto Schiatto Ok Allora anch'io Edo io me ne metto Una speciale O mitica Secondo te Dimmi che Dimmi che skin Devo mettere Tu hai quella Edo Ora ti faccio vedere In partita Ragazzi Guardate Edo Io non l'ho Già cambiata Edo Edo Mi aveva Un'idea Ma perché Non uso Sushimi Sushimi Il cucchini Perché non uso Sushimi Vabbè Rientriamo in partita Trappole 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 Sì Ce l'hai Quelle speciali Ok Allora usa quella Fammi indovinare È Jimmy Gold Quella Vabbè Eh io Sì dai Così stiamo tutti e due In speciali Quanto quale hai Quella del nuovo pass Come sai che mi devo mettere ora Eh Se trovo Passo qua Edo Ora Io Edo io ti invito Ok Sei entrato Ok Edo Cerca di non Edo Cerca di non morire Al primo round Sì Non trovate La scelta di prima Perché non stavi Alla Vabbè A parte che ti vedo Il nome verde Quindi lasciamo stare Ragazzi Non ho visto Non ho visto Quella di Vizio Vizio Non ho visto Un'altra Ah quella del Capodanno Sì Del Capodanno Di quest'anno Anche a me Sta laggando Anche a me Certo perché Se rimani troppo tempo Fermo Se ti lagga Troppo E non riesci ad entrare In partita Ok Edo Sono in semifinale I gas e vinco Sono un Prosciutto Niente da fare Triccozzo Niente Edo Edo ma stai Nella mia visualis Sì o no Sono uscito dal gioco Sei uscito dal gioco Perchè Eh vabbè Edo Ti rinvito Quando finisco La partita Sperando che Non schiatti In cinque secondi Ed ho fatto Un triccozzone Mi sono qualificato In finale Solo perchè Ho fatto schiattare Un tizio Insieme Quella che stiamo insieme Edo sono in finale Edo Io oggi ho fatto Un giro fortunato E mi è uscita La skin del drago Mitica Quella che stavo usando Prima Vabbè Grazie al cavolo Che io ho fatto Uno spin Di 149 gemme Vai che schiatta Bene E' schiattato Un tizio Un tizio E' schiattato Edo Ho fatto schiattare Un tizio Colpendo Un tizio Che quel tizio Aveva usato Un emode Che aveva Per sputare E sanno tutti Che si usi Le mod Dello sputo Da troppo vicino Schiatti E lui Ha fatto la fine Che Tipo Ho colpito Un tizio Lui si è fermato Davanti alla sua faccia L'altro tizio Stava usando Le mod E' schiattato La skin speciale Le mod Speciale Le skin leggendarie Gemme Eccetera No 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 Fra poco schiatto Stavo per schiattare Edo Edo mi sono qualificato Forse ho vinto Edo ho vinto Ragazzi ho vinto Edo davvero ho vinto Guarda Non ci credo Ragazzi il video Finisce qui E ci rivedremo In un prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.